Ciao a tutti, eccomi qua con una nuova nell'art per la rubrica dedicata agli animali. Questo mese ho deciso di fare un animale ispirato ad Halloween e infatti ho fatto un ragno e delle ragnatele. Vi chiedo scusa in anticipo per questa nell'art che non è venuta molto bene perché non è proprio un animale ma sono presso più ragnatele, però comunque spero tanto che vi piacciono e vi lascio al video. Per vedere come ho realizzato la french dovete cliccare qui, vi manderò un altro video dove appunto vi spiego stanti passaggi per fare una french perfetta. Poi prendiamo un pennellino molto fino e o un acrilico nero o uno smalto, io utilizzerò un acrilico. E comincio appunto sul mio indice a fare la ragnatela. Faccio altre ragnatele anche sulle altre dita più piccole e più grandi. Sull'indice faccio una linea che sarebbe una ragnatela che scende e poi alla fine di questo filetto faccio appunto il ragno. Poi prendo un bianco e faccio dei riflessi dentro le ragnatele. E faccio la stessa cosa con uno smalto argento. Per rendere la nart più particolare potete aggiungere dei glitter rossi o argento sulla french. Io lascio tutto così e applico il top coat. E questa è la nart finita, spero davvero che vi piaccia, se avete altre richieste per il prossimo mese scrivetemelo qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!